salve a tutti e bentornati dal vostro luigi free 85 colgo l'occasione per fare questo video che ogni tanto li voglio fare salutare i nuovi iscritti sia sul facebook instagram o il mio canale questo qui di youtube e salutarli personalmente io ovviamente non per motivi di privacy non farò i cognomi farò solo i nomi e magari la iniziale solo del cognome poi ognuno capirà da sé e vi ringrazio tutti dell'iscrizione vi ringrazio dell'amicizia vi ringrazio del fatto che mi seguite che commentate i miei video che mi fate anche delle critiche perché è giusto le critiche ci vogliono e bisogna per forza fare perché sono costruttive non devono essere delle come si dice critiche distruttive ma costruttive allora partiamo con i saluti saluto regina b saluto roberta m saluto alex g manuela m filippo di g saluto mauro di g ganni g simonetta b umberto b alex v e poi adesso io altri nomi non riesco non riuscito a prendere di giù perché sono veramente tantissimi e faccio il summit i miei 33 follower tra cui alcuni di questi che ho fatto di nomi che mi seguono sul canale io lo so è un numero piccolino ma pochi ma buoni penso sempre fatemi sapere nei vari commenti sotto un video mandatemelo come messaggio seguendo seguendomi sul canale a proposito ho fatto una cavolata quando avevo tolto facebook sono uscito dal mio canale dal mio canale che avevo preparato nel mio gruppo di facebook avevo preparato un gruppo collegato al canale di youtube c'è ancora è operativo lasciato a sé non ha un proprio un secondo amministratore non c'è proprio più l'amministratore un canale morto nel senso che è lì però non lo dirigo più quindi rifaccio da capo il canale quindi risseguitemi sul nuovo canale sul nuovo gruppo scusate non di canali oggi sono proprio rincoglionito sul nuovo gruppo di facebook correlato quindi collegato ai video del canale qua sotto ovviamente su facebook ormai tutti mi conoscete mi troverete facilmente però cercate il gruppo il gruppo non è difficile a trovare è sempre lo stesso luigi free 85 e tra parentesi ci metterò il nome e Lewis che è il mio soprannome quindi non sarà difficile luigi free 85 youtuber Lewis non è difficile da trovare è il nuovo gruppo iscrivetevi bene detto questo ragazzi io vi saluto adesso riapro il gruppo collegato al canale su facebook ricordatevi luigi free 85 youtuber tra parentesi Lewis e troverete la nuova foto ciao patati e ciao patate